...scientifico, che però, possano consentire, giusto, di verificare un primo o dopo un trattamento, anche... ...e appunto è buono, perché... ...a me interessa... ...lo giriamo come? ...questa interessa proprio, quindi... ...esatto, la prima dovrebbe diventare verde, perché non è protesta... ...e le altre due dovrebbero, in maniera diversa, non diventare verde, una magari di più, una... ...c'è il protettivo biologico, perché c'è un blocco, guarda un po'... ...questo è sodato... ...siccome è già successo che è venuto verde, siamo tranquilli che proprio siamo nelle condizioni adatte per verificare se questo trattamento biopreventivo agisce, lo vedremo di inverno, quando ci sarà il lumido. L'ambiente è aggressivo, lo è come lo stato. Io mi aspetto, anzi, mi auguro di venti verde, quello di sinistra... ...adesso ci siamo, avanti, avanti, avanti... ...sì, ecco, avanti ancora un pochettino. No, sì, è proprio... Ci siete, eh? Sì, ci siamo. No, no, ma qui, infatti... ...questa straccia di... ...prome... ...poi ve le inviamo a voi, che ve le mettete nella vostra banca d'arte... ...sì, sì, sì... ...tra l'altro, questo è il proposito, ora poi... ...non posso farlo dire su di te? Sì, infatti, aveva iniziato, poi... ...e... ...e... ...re iniziato di nuovo. Che era finito di nuovo. Che era finito di nuovo. Che era finito di nuovo. E... ...che non mi diceva. È arrivata in fondo. In fondo corsa? Sì. No, è andato... ...la scala? ...ha finito correttamente. Eh... ...in teoria, però ha iniziato prima. E aveva iniziato, poi ha iniziato. Sì, ci sono... ...e... ...e...